Bene, eccoci in una nuova puntata di Scratchpedia, la rubrica di tutorial per approfondire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi vediamo come contare e come fare i calcoli, come far di conto, come si diceva una volta, somme, sottrazioni, divisioni, cose che ci possono essere utili all'interno dei nostri progetti, ad esempio nei giochi dove contiamo il punteggio oppure le vite e così via. Quindi passiamo a creare un progetto e la prima cosa che dobbiamo fare, se vogliamo ad esempio vedere come si conta, è creare una variabile. Quindi qui sulla sinistra abbiamo la categoria delle variabili, ci clicchiamo dentro e vedete che abbiamo a disposizione tutta una serie di istruzioni per creare una variabile. Quindi iniziamo con crea una variabile, chiamiamola, non so, tocchi, e per il momento la lasciamo una variabile che vale per tutti gli sprite, ma potrebbe valere ad esempio solo per questo sprite, quindi la variabile tocchi, e come vedete è apparsa qui il nome di questa nuova variabile. Qui all'interno dello stage abbiamo anche, che è apparsa qui dentro l'area del programma, tocchi che è uguale a zero perché all'inizio questa variabile è uguale a zero. Ora all'interno del codice noi potremmo dire appunto che all'inizio dei tempi, quindi quando comincia il programma, quando si preme sulla bandierina, e questa variabile tocchi appunto è a zero, in questo modo la azzeriamo, questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Ora come possiamo fare a contare? Ad esempio che cosa vogliamo contare? Vogliamo contare, facciamo conto, ogni volta che il gatto viene premuto dal mouse, vogliamo che questa variabile tocchi, si incrementi di uno. Quindi possiamo scegliere qui quando si clicca su questo sprite, e abbiamo a disposizione, tornando nelle variabili, l'opzione di cambia la mia variabile di uno. Cambia, in questo caso la mia variabile si chiama tocchi di uno. Quindi l'istruzione porta, diciamo, porta il valore di una variabile ad un valore ben preciso, mentre l'istruzione cambia, cambia ogni volta la variabile di un valore che decidiamo noi, in questo caso di uno. Proviamo a eseguire il programma, mettiamo a piano schermo, e vediamo che ogni volta che io clicco su questo sprite, la variabile si incrementa di uno. Proviamo adesso a modificare, ad esempio, il cambia. Vogliamo che ogni volta che io tocco lo sprite, la variabile cambia di cinque. Vediamo che succede adesso. Si parte da zero, quindi perché all'inizio del programma io ho messo tocchi uguale a zero, porta la variabile tocchi uguale a zero. Se clicco lo sprite, la prima volta va cinque, la seconda volta va dieci, la seconda volta va quindici, e così via. Quindi in questo modo io ho definito e ho fatto un codice, un programma, per far contare qualche cosa. In questo caso ogni volta che io clicco sullo sprite. Posso anche fare delle operazioni. A questo punto io vado nell'area qui degli operatori matematici, che si trova sempre sulla sinistra, e tra gli operatori matematici, vedete, ci sono sicuramente l'operatore più, l'operatore meno, l'operatore per, per fare la moltiplicazione, e l'operatore diviso, per fare la divisione. C'è una cosa molto interessante, ad esempio noi potremmo far fare al gatto le operazioni magari dei nostri compiti, e quindi ad esempio il gatto potrebbe, per il momento questi non ci servono, una cosa interessante potrebbe essere che il gatto, ad esempio, possa dire, per un certo numero di secondi, ad esempio una, quanto fa il risultato di una somma. E magari quando, quando si clicca su lui stesso, sullo sprite, quindi possiamo dire, quando si clicca su questo sprite, il gatto mi dice il risultato di una somma, ad esempio, 3 più 6, 3 più 6, vediamo un po', abbiamo fatto questa operazione, e questa operazione gliela facciamo dire al gatto, vediamo un po', quando si clicca su questo sprite, il gatto dice che, 9, che è esattamente il risultato della somma. Ovviamente potremmo fare delle somme molto più complesse, ad esempio potremmo dire che, fargli fare 3 più 6, quindi un'espressione un po' più complessa, e il risultato moltiplicarlo per 2. Quindi abbiamo fatto, prima l'operazione di somma, e all'operazione di somma, adesso la rimettiamo qui nella, ci aggiungiamo che il risultato della somma deve essere moltiplicato per 2. e vediamo che succede, 3 più 6 fa 9, per 2 fa 18. Quindi, la cosa interessante è che noi potremmo applicare, far fare al gatto di Scratch, o a qualsiasi altro sprite, ad esempio i nostri, le espressioni che ci danno a scuola. Questo è un segreto, non lo dite a nessuno. Bene, abbiamo visto come usare una variabile per fare dei conti, ovviamente anche il risultato delle operazioni, che abbiamo fatto, potremmo metterlo all'interno di una variabile, e quindi abbiamo visto come contare, e come calcolare, come fare dei conti. Per questa volta, quindi, finisce qui il tutorial, ci vediamo al prossimo. Ciao!